prova prova 123 prova mi sentite ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video allora siamo finalmente alle porte dell'uscita di le mans ultimate il 20 febbraio martedì prossimo finalmente sbarcherà su steam il nuovo titolo di studio 397 io sono impaziente entusiasta di questa nuova uscita un hype alle stelle si vedono tutti gli amici che parlano di sim racing parlare di le mans ultimate stanno nascendo sono già nate gruppi facebook account instagram tutto pronto per far scoppiare il contatore di ore di gioco di le mans ultimate e io non sono ultimo perché aspetta anch'io di poterlo sfondare sto gioco quindi per l'occasione visto che l'attesa è tantissima ho deciso di fare un concorso per regalare una copia ad un fortunato di voi che mi segue una copia di le mans ultimate le regole ragazzi sono semplicissime ma visto che sono semplici sarò veramente fiscale quindi se non seguite esattamente le mie istruzioni per partecipare purtroppo mi vedrò costretto ad escludervi quindi questa è la parte importante da ascoltare per partecipare le regole sono molto semplici punto primo dovete essere iscritti al canale punto secondo dovete aver lasciato un like a questo video terzo dovete condividere questo video con chi pensate sia interessato a questo concorso interessato al sim racing generale e quarta cosa dovete lasciare un commento in questo modo preciso punto primo dovete scrivere iscritto virgola like virgola condiviso virgola partecipo questa è la regola non verranno tenuti in considerazione commenti che non c'entrano niente ovviamente sotto commenti tipo se tu metti la partecipazione sotto un commento di uno che si è iscritto non verranno tenuto in considerazione solo i commenti principali verranno presi appunto convalidati come avverrà questo diciamo la scelta del vincitore molto semplicemente utilizzerò un sito in cui indicherò un minimo di uno ovviamente un massimo di quanti saranno gli iscritti convalidati a questo punto darò un click uscirà in modo totalmente aleatorio un numero e quello identificherà il numero del commento ok che avrò convalidato che vincerà una copia quindi se sono 100 commenti esce il conterò 90 di quelli convalidati e gli assegnerò il premio e lo contetterò mi farò contattare per dargli la copia di le mans ultimate quando sarà il martedì 20 febbraio se ci riesco se non ho impegni di lavoro o altro magari prima che esco dopo che esca le mans ultimate perché vorrei pure fare una live mentre provo questo fantastico attesissimo titolo della studio 397 nella speranza ragazzi di aver fatto una iniziativa di vostro gradimento non vi chiedo le solite cose perché se avete eseguito le istruzioni sapete che cosa fare vi ringrazio in anticipo ci vediamo prestissimo da fabbris è tutto un abbraccio ciao